l'estate in musica è solo festival bar alex britti, piaggio antonacci, sting, giovanotti, alexia, zucchero, anna oxa, lubega, benga boys, pino daniele, angun, red of chili peppers, lene marlin, jerry halliwell, fiorello e alessia marcuzzi presentano festival bar 99 questa sera 20 e 45 italia 1 maybelline chiede cosa dicono le labbra più sexy più idratazioni nuovo rossetto moisture whip con il 66 per cento di agenti trattanti e idratanti per labbra più morbide in 20 colori da urlo nuovo moisture whip per imparare l'inglese anche a casa english now il corso multimediale con il controllo elettronico della pronuncia il primo si dirome il microfono in edicola 3900 lire ore 8 del mattino pronti alla partenza? pronti! con i 5 cereali di Kinder colazione più la colazione è più completa più morbida con quel buon gusto di cacao per questo la giornata parte bene Kinder colazione più ha ben 5 cereali per partire alla grande i 5 cereali di Kinder colazione più Kinder colazione più! I want it right now Back to the good times, Fossil, the American classic Yogurt danone di casnella è l'unico 0,1% con 5 vitamine danone vita snella ogni giorno un corpo vita snella mamma avremo un buon profumo tutto il giorno adesso li aiutiamo i tuoi fiori Ajax giardino in fiore tre nuovi detergenti di grande efficacia e profumano così a lungo che... c'è ancora il profumo! Ajax giardino in fiore pulisce in un attimo profuma a lungo in vacanza ho conosciuto un sacco di gente e adesso li chiamo tutti tanto con wind mi costa così con wind risparmiate fino al 70% accumulate punti e vincete un telefonino a wind risparmia e vinci il telefono di casa regala il telefonino abbonatevi al 159 gratis Heineken sounds good con il mcdonald's championship arriva il five star menu il tuo mac menu maxi è uno dei tre originali cappellini NBA a sole 11.900 lire sono da mcdonald's quando si ritrova la natura si ritrova la propria essenza benessere naturale e aromaterapia e la guida per star bene con gli oli essenziali feri di Bach un'alimentazione sana e naturale in edicola alla prima uscita con l'olio di lavanda a sole 2.900 lire da lunedì 13 settembre nuovi giochi tanto divertimento e moltissimi VIP torna con Jerry Scotti passaparola sfide appassionanti nuovi concorrenti a caccia di premi da conquistare tra sillabe lettere e parole passaparola il gusto del divertimento con il piacere del gioco in buona compagnia torna da lunedì 13 alle 18.40 su canale 5